Ha declamoroso il dialogo VAR nella partita Inter-Verona sul mancato fischio per fallo di bastoni Addirittura si è reso noto prima dell'uscita di Open VAR perché è un caso troppo eclatante E io veramente non so cosa dire Infatti si dice continua perché è Duda che va contro il gomito di bastoni Semmai è rigore per l'Inter Io sono seriamente preoccupato perché non c'è nessuna base regolamentare Io veramente ho letto, non so cosa dire E se il campionato va avanti così ragazzi non c'è più niente Prima di dirmi cosa ne pensate Leggite la descrizione